Sio! Ah, bello mio! E chi combini qui? Faccio un film da protagonista e la produzione mi assisto andato qua. Ti piace, eh? Sì, mi piace. Io devi regalare i fiori. Adesso ti porto da Florenzia, la fioraia. E la conosci? No. È che tutte le fioraie si chiamano Florenzia. Tu, ragazzo, devi conquistare una bella ragazzetta, però è tipico. Le donne vanno accortiggiate, conquistate, cuccolate. Un uomo elegante deve sempre andare in giro con la barba fatta. Questa città è bella. È caro che è tutta allagata. Le persone non si guardano più negli occhi ormai. Non sanno quello che si perdono. E oggi voglio passare una giornata indimenticabile con il nipote mio. Ma dove hai lavorato? Al tramonto. No. 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 Grazie a tutti